Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi anticipo un po' di trama. Leila, la figlia di Demir e Zuleila, cadrà dal balcone in un momento di felicità di Zuleila, provocando però una grande tragedia in famiglia. Se non volete però rovinarvi la sorpresa della serie Terra Amara, vi consiglio di non guardare questo video. Ma se come me siete amante degli spoiler siete finiti nel posto giusto. Prima di iniziare vi prego di lasciare un bel mi piace al video e di iscrivervi al mio canale. All'inizio del video vediamo una Zuleila radiosa che finalmente sta assaporando un po' di felicità che le è stata negata per tanto tempo. Infatti vede che arriva Ficcheretta a trovarla e decidono di trascorrere un pomeriggio sereno insieme in giardino chiacchierando spensieratamente ma poi improvvisamente sentono un rumore strano. Quello che vedranno sarà sconvolgente soprattutto per Zuleila. La sua amata Leila è caduta dal balcone mentre giocava a causa di una distrazione di Fadik che avrebbe dovuto guardarla. Zuleila, Ficcher e Fadik cercheranno in vano di rianimare la piccola quindi la porteranno in ospedale sperando in un miracolo. Ma vediamo tutto con maggiore dettaglio. Iniziamo dall'inizio. Vediamo che Fadik è in giardino che sta chiacchierando anzi spettacolanto con un dipendente che è venuto a consegnare della merce. Sanye si accorge di questa cosa e esce sulla porta della cucina e la riprende dicendole che lei non è di certo pagata per stare lì a fare questo chiacchiericcio e nel contempo riprende anche l'altro dipendente dicendogli che senz'altro il suo padrone non è contento di sapere che lui invece di compiere il suo lavoro se ne sta in giro a chiacchierare. Poi allora Fadik entra in casa. A quel punto vediamo che Zuleila è sul balcone che sta giocando con la piccola Leila che è seduta in terra. Fadik sale per dare il cambio a Zuleila e Zuleila le dice mi raccomando curala non lasciarla mai da sola. Zuleila rientra e scende. Nel frattempo però Zuleila ha visto dal balcone che stava arrivando Fichere che si sofferma giù in gazebo a parlare con l'off time. Iniziano a parlare e nel frattempo arriva anche Zuleila che è scesa. Si siedono tranquilli sotto il gazebo a parlare come se fosse un normale pomeriggio. Poi improvvisamente mentre stanno parlando sentono un rumore sordo, un tonfo e immediatamente dopo sentono Fadik che inizia gridare come una pazza perché si è affacciata al balcone, la bambina non c'era più, la bambina è caduta dal balcone, è sotto al balcone, ferma, immobile, non si muove più. Fatica e disperata. A quel punto tutti corrono verso quel punto e vedono la bambina in terra disperata. Fichere subito la prende in braccio e cerca di rianimarla, cerca di farla respirare ma la piccola non respira più. Allora la prendono in braccio e salgono il più velocemente possibile in auto per correre verso l'ospedale e cercare aiuto. Quando arrivano all'ospedale cercano disperatamente aiuto e corrono nei corridoi senza trovare nessun medico. Poi improvvisamente da una stanza esce finalmente il dottore che li guarda come interrogandoli con gli occhi e loro gli spiegano e gli dicono che la piccolina è caduta dal balcone, che non respira più, che non reagisce più e quindi gli dice fate qualcosa piangendo e disperata, chiede aiuto, aiuto. Il dottore prende la bimba in braccio e la porta verso la sala dove deve iniziare a fargli i primi trattamenti per cercare di salvarla. Zuleila sta cercando di seguirlo ma viene infermata e lasciata fuori. Lei è sconvolta perché non vuole rimanere fuori però è proprio impossibile che lei possa entrare. A quel punto Zuleila viene colta da un collasso, da un abbassamento totale di pressione e crolla in terra e la devono accompagnare in una stanza ed appoggiarla su un letto. Nel frattempo in villa però sta succedendo un'altra tragedia perché c'è Fadick che è ancora sotto shock e continua disperata a gridare dal balcone come se non riuscissero più a staccarla di lì. Poi la fanno scendere e cercano di farla riprendere da questo shock terribile. Fadick è disperata perché si rende conto delle conseguenze che avrà sia sulla bambina che su di lei. Intanto in ospedale arrivano anche Sannier e Loftheim che sono corsi anche loro in ospedale per vedere. Zuleila nel frattempo si è ripresa. Si è ripresa e sta uscendo dalla stanza senza sapere sua figlia come sta, se sta bene, se si è ripresa, se è morta, non sa nulla. Esce e trova Sannier che è piangendo disperata non sa che cosa dirgli, non sa come tranquillizzarla. Poi mentre sono lì che cercano di rassicurarsi una con l'altra poi arriva il dottore dal corridoio con un leggero sorriso sulle labbra e quel leggero sorriso dà un po' di speranza a tutti. Quando arriva vicino a loro gli dice che fortunatamente la bambina non si sa come e non si sa perché ma è salva. Non ha nessun problema però lui vorrebbe tenerla in osservazione per qualche ora per vedere se ha ancora qualche reazione o se può succedere qualcos'altro. A questo punto la gioia è enorme per tutti, pervade tutti, si abbracciano felici, Ficker che è sempre lì presente, gli è stato accanto. E c'è anche Betul, la figlia di Sermin e a un certo momento arriva anche Sermin con la sua amica Fusun. Si complimentano con Zuleila perché fortunatamente tutto ciò è finito nel migliore dei modi. Poi dopo che la bimba si è un po' ripresa decidono che la possono portare a casa e gliela danno da portare a casa. Ma quando arrivano a casa trovano una Fadik totalmente disperata che cerca di prostrarsi a Zuleila ma Zuleila guardandola le dice di allontanarsi che lei proprio non la vuole vedere. Dopo quello che le ha fatto non è degna neanche del suo saluto. Fadik è disperata, non sa più cosa fare e allora decide di fare le valigie e di dare l'addio al suo lavoro. Si presenta davanti a Zuleila con la valigia in mano per salutarla, per scusarsi ancora, per dire che ha sbagliato. Zuleila la guarda, è lì davanti a lei col cappotto e la valigia in mano che sta cercando di salutarla per andarsene. A quel punto la guarda e le dice togliti il cappotto e riprenditi a fare il tuo lavoro. Fadik a questo punto la ringrazia. Appoggia la valigia e torna serenamente in casa assicurando a Zuleila che non commetterà mai più un errore del genere. Ma voi cosa ne pensate? Fadik non sbaglierà più? Non farà più qualche cosa di sbagliato in Zuleila? Ma prima di continuare a guardare il video, ricordatevi di mettere un like e di continuare a seguire sul canale.